Ho appena incontrato il vice sindaco di Seattle, ho portato come omaggio dei Baci Perugina, il meglio della nostra città, un valore aggiunto per la nostra città. È stato un incontro interessante, ci ha spiegato come Seattle è stata una città attrattiva per la tecnologia, anche favorendo insediamenti che venivano dall'Alta California, dalla Silicon Valley, perché è più abbordabile da un punto di vista di affitti e di costo generale della vita media. Negli ultimi anni, 20 anni, Seattle è stata una delle capitali della tecnologia negli Stati Uniti, soprattutto per lo sviluppo delle tecnologie del cloud computing. Credo che è stato un incontro interessante per capire come Perugia può utilizzare la banda larga come strumento di attrazione di investimenti da altre parti d'Italia. Abbiamo portato anche un omaggio importante del nostro territorio, i nostri Baci, la nostra Perugina e la nostra città. Siamo ancora nel municipio di Seattle, un altro argomento dell'incontro è stata la possibilità di collaborazione sui festival jazz. A Seattle c'è un festival jazz, è gemellato con una città giapponese che anch'essa è un festival jazz, il triangolo sembra inevitabile, quindi anche qui altre opportunità per legare la città di Perugia con la musica, col suo festival più importante, alla città di Seattle in una triangolazione a livello mondiale. Sono tante le opportunità che questo gemellaggio può offrire alla città di Perugia.